Durante l'estate sono emersi diverse criticità nel svuotamento dei compattatori che andavano a Giuliano. Lunghe code, tempi di attesa di molte ore con ovviamente ripercussioni negative sia sulla gestione del servizio sull'isola d'Ischia sia sotto l'aspetto economico perché i dipendenti stavano lì in attesa e quindi poi alla fine scattava lo straordinario e devono essere pagati. Si dovrà discutere proprio di questo, di capire quali sono le modalità di accesso e le priorità nello scarico dei compattatori perché noi purtroppo abbiamo questa peculiarità che siamo un'isola e quindi siamo soggetti al vettore marittimo che ci deve accompagnare a Pozzoli e poi riaccompagnare sull'isola d'Ischia. Questa lunga attesa è stata giustificata quest'anno con il fatto che alcuni comuni sono morosi nei confronti dello stir. Com'è la situazione per il comune di Serrara Fontana? Anche su questo la Sappana non è esente da responsabilità perché innanzitutto non ha firmato un protocollo di intesa con i comuni e senza il protocollo ha chiesto delle somme che in realtà non poteva chiedere. Comunque i comuni stanno cercando di adeguarsi, stanno cercando di pagare le pendenze arretrate. In modo particolare il comune di Serrara Fontana ha pagato già metà dell'anno 2013 ed è in corso per pagare la restante parte. Un'altra criticità che bisogna sottolineare è che la Sappana non può pensare di emettere fatture a fine anno e non chiedendo tutte le somme precedentemente fatturate perché è impensabile che un comune possa pagare tipo Serrara Fontana 180.000 euro a fine anno per chiudere la questione della discarica. Questo vale per Serrara come vale anche per gli altri comuni. Quindi anche da questo punto di vista la Sappana si deve dare una regolata cercando di inviare le fatture mese per mese come avveniva normalmente negli altri anni.